ciao ragazzi come state venuti in un nuovo video oggi ragazzi io sono qui a Belinzona per ricordare Belinzona contro Shafusa. Sto qua sarà una partita della challenge di stagione 2022 e 2023 e anche ragazzi volevo fare un piccolo concorso per vincere questo porta chiave della curva di zona boys 15 anni e per qualcuno che vuole vincere deve dirmi che anno è stato fondato il Belinzona giù sotto nei commenti quindi andate e vincere questo porta chiave niente ragazzi forza granata la mamma del ciascese la mamma del ciascese la mamma del ciascese a la maya granata è la granata è forte e vincerà fine primo tempo 0 a 0 finora proprio in zona qua gioca molto bene e quindi in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.